Tutti noi ragazzi giochiamo, è il nostro lavoro per un qualcosa. Secondo me se riusciamo a mettere in campo un qualcosa in più, anche per motivi extracalcistici, riusciamo ad arrivare all'obiettivo il prima possibile. Diciamo che lo facciamo un po' tutti, io ti ringrazio per questa cosa perché ci tengo tanto, nel senso che poi possa essere giudicato a livello tecnico, tattico in qualsiasi modo, però dal punto di vista dell'impegno è difficile che mi viene detto qualcosa, perché io do al massimo, come i miei compagni poi, è cambiato qualcosa, perché è stata anche una prova di carattere, perché secondo me queste partite, qualche mese fa purtroppo per demeriti nostri anche potevano finire in modo diverso, nel senso che abbiamo preso gol dopo pochi minuti e invece abbiamo avuto questa volta la forza di reagire da gruppo e da squadra. Poi nel secondo tempo un po' di malizia, tanto ho visto che qua vengono e fanno quello che gli pare, non capisco perché non possiamo metterle in campo anche noi queste cose. Secondo me la Serie C è questa, non possiamo fare fioretto, dobbiamo combattere su ogni pallone. Personalmente sono molto contento della reazione che ha avuto la squadra, perché dimostra veramente che c'è carattere, c'è voglia, nonostante purtroppo le ultime battute di arresto che abbiamo avuto. Diciamo che da come è nata l'azione, se la riguardiamo, è un'azione che proviamo anche durante la settimana, quindi quando poi si corona in questo modo penso che si ha soddisfazione un po' per tutti. Dopodiché, al di là del mio cross, è stato proprio il gesto tecnico di Celli che me l'ha valorizzato in modo migliore, nel senso che ha fatto una giocata incredibile, che poi ha dimostrato di averlo questo calcio importante di sinistro, quindi diciamo che è venuto tutto bene ed è finito ancora meglio. Volevo dire una cosa, se me lo concedete, che la squadra voleva dedicare questa vittoria a due persone in questo momento che stanno curando, che hanno purtroppo avuto un infortunio tutti e due brutti, sia Speranza e Gomis, che sia da fuori ci danno una grossissima mano e quindi una dedica speciale a tutta la squadra. E ringraziare i tifosi che sono venuti, che hanno fatto veramente così tanti chilometri per sostenerci, perché in queste categorie non vedo così tanti tifosi al seguito per una squadra con così tanti chilometri di distanza. Secondo me questa è la mentalità che ci porterà poi all'obiettivo della salvezza.